Allora ragazzi buongiorno, questa mattina vi faccio un mini circuito bracciagambe come vi avevo promesso ieri, questo è valido per le classi terze. Vi dovete procurare una sedia e due bottigliette d'acqua da mezzo litro, ok? Guarda, vi impegnerò un 15-20 minuti, non di più. Spero che rimarrete soddisfatti e soprattutto che facciate movimento. Vi ricordo che in questo periodo fare movimento è importantissimo perché passiamo tantissimo tempo seduti e quindi il corpo ricordate che è progettato per muoversi, non per stare fermo, ok? Io ho messo una musica anni 88, questa è la musica di quando io andavo a scuola, eh? Bene, andiamo a marcare partendo dalla macchia sinistra, eh? Ci siamo? Pronti? Ora, cercate di tenere il ritmo, eh? Hop, 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 ancora otto, vai! Spero solo che la musica vada al ritmo con le immagini. Una leggera corsetta adesso, vai! Leggera, leggera, eh? Non esageriamo nella fase di volo. Ritorna a fare marcia. Marcia. ultimi quattro, tre, due, di nuovo corsa. Morbida sempre. Ancora otto. Stiva la marcia. Marcia. Mettiamo le mani qui sui fianchi, eh? Andiamo a fare uno step touch, quindi un passo tocco, passendo con la gamba sinistra, eh? Fra quattro, tre, due, con me, vai! Passo chiudo. Non è difficile, eh? Vai! Proviamo a mettere le braccia? Via! Apro, chiudo. Le braccia fanno lo stesso movimento delle gambe. Ancora otto. Bene, continuate con le gambe e riposizionano le mani qui sul fianco. Continuate a fare questo movimento, eh? Adesso sul posto andremo a dare dei calci dietro ai glutei. Ultimi quattro, tre, due, guardate già me, forza insieme a me. Tre, piccoli calcini. Al mio via ne facciamo due di seguito per ogni gamba, eh? Quindi diventano doppi. Ultimi quattro, tre, due, uno, doppio. Doppio destra e doppio sinistra. Doppio destra e doppio sinistra. Dai, continuiamo. Ultimi. Di nuovo aspettate. Forza qui. Di nuovo calci. Vai adesso. Doppio. Ancora doppio. Ultimi. Step touch. Forza qui. Bene. Solleviamo solo la gamba destra e il ginocchio. Faccio solo questo. L'altra gamba fa un leggero touch. Chi vuole la può tenere ferma. Pronti col gomito sinistra? Andiamo a chiudere il gomito e il ginocchio, eh? Fra due. Fra uno. Insieme, vai. Chiudo e tocco. Chiudo. Tocco. Tocco. Ancora quattro. Tre. Due. Uno. E sto. Start up. Ora vorrei che cambiassimo accento musicale. Quindi proviamo a fare uno step pass doppio. Quindi faccio due volte questa cosa a sinistra e due volte a destra. Ok? Insieme, vai. Due volte a sinistra. Due volte a destra. L'ultimo. Riprendo singoli. Ora l'accento musicale ce l'ho sulla destra. Mani sempre su tutti i fianchi. Quattro. Tre. E sollevo la gamba sinistra ora, eh? Su. E tocco. E tocco. E tocco. E tocco. Pronti col gomito? Si va. Otto. Sette. Sei. Cinque. Schiena bella dritta, eh? Quattro. Tre. Due. Uno. Step touch. Qui. Ritorniamo sull'accento musicale e sull'altra gamba, eh? Tre volte step touch doppio. Vai. Tre volte. Due. L'ultimo. E riprendo il singolo. Ci siamo? Bene. Abbiamo finito il riscaldamento, eh? Iniziamo a fare un lavoro sulle gambe. Ci siamo? Bene. Mi si è spossato il tappetino. Mettiamoci le gambe divaricate, posizione plie. Mi appoggio sulle gambe. Iniziamo a fare un leggero piegamento sinistra e destra. Vai insieme a me. Insieme a me. La schiena rimane sempre dritta, eh? Piccolini. Forza. Dai. 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 Forza. Forza. Dai. Dai. Ultimi quattro. Tre. Due. Tre molleggi. Tre. Due. Uno. Stop. Tre. Due. Uno. Stop. Tre. Due. Uno. Stop. Allungo il braccio corrispondente dal prossimo. Forza. Tre. Due. Uno. Stop. Tre. Due. Uno. Stop. Tre. Due. Uno. Stop. Tre. Due. Uno. Di nuovo singoli senza braccia. Vai. 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 Ancora otto. Ultimi quattro. Tre. Due. Stop. Marcia. Andiamo a fare un recupero attivo, eh? Ogni tre marcia solleviamo il ginocchio, eh? Forza. Tre. Due. Uno. Sollevo. Tre. Due. Uno. Tre. Due. Uno. Tre. Due. Uno. Tre. Due. Uno. Quando sollevo il ginocchio metto un piccolo power. Power significa che metto un saltellino. Vai. 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 L'ultimo. Ok. Marcia. Ora andiamo a fare uno squat plié. Come stavo prima, eh? Bene. Porto le gambe qui. Mi appoglio sulle cosce e faccio tre volte squat plié. Tutti quanti insieme pronti? Si va. 3, 2, 1. Contrago bene le chiave. 3, 2, 1. Su. 3, 2, 1. Su. 3, 2. Chi vuole intensificare? Mane le spalle. 3, 2. Chi vuole può scendere di meno, eh? 3, 2, 1. Su. 3, 2, 1. Su. 3, 2. Singoli. Chi vuole mani alle cosce. Chi vuole mani alle cosce. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Ultimi due. L'ultimo. Bene. Marcia. Recuperativo. Ci siamo? Cortetina di nuovo sul posto. Ultimi 4, 3, 2, ok, stop. Bene. Prendiamo adesso la vostra sedia. Vi mettete dietro lo schienale. Mi raccomando, la sedia deve essere stabile. Ok, dovete assicurarvi che non scivoli. Meglio. Seppoggiate la sedia sopra un tappetino. Ci siamo? Mi appoggio sulla sedia. La schiena deve essere in linea. Stacco la gamba sinistra. E via stacco singoli. Lavoro sul gluteo. Spingo. Giù. Spingo. Giù. Forza. bloccate bene la schiena. Il movimento della gamba non devemo farvi muovere la schiena, eh. Tre molleggi. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Sempre su 8. Vai. 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 Dai ragazzi. Forza non mollate. Vai. Cerchiamo di resistere ancora 8, eh. Sentiamo bene il gluteo che lavora. Ok. Stop. Recuperativo. Facciamo una marcia sul posto, eh. Bene. Posizioniamoci. Fra 4, 3, 2, si va. e 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, l'ultimo. Tre piccoli molleggi. Via. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. 1, sempre su. Vai. Molleggini. Cercate di sentire la contrazione del gluteo. Dai, così riuscite anche a percepire il muscolo, eh. Ultimi 4, 3, 2, ed 1. Stop. Sempre un recuperativo con la marcia. Ci siamo? Adesso andiamo a lavorare verso l'esterno, eh. Bene. Di nuovo appoggio. Pronti? Via. Laterale. Giù. Forza. Giù. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. L'altra gamba potete avere il ginocchio leggermente piegato. Tre molleggi. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, quindi fermo i tre molleggi, eh. Ok? 3, 2, 1. Recuperativo. Marcia. Ora cambio lato, eh. Bene. In posizione. Pronti? Si va. 8, giù. 7, giù. 6, giù. 5, giù. 4, giù. 3, giù. 2, giù. 1. Molleggio. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. L'ultimo. 3, 2, 1. E stop. Recuperativo. Bene. Partiamo adesso a lavorare sulle braccia, eh. Quindi le bottigliette. Ok. Giro la sedia. Adesso la telecamera. Prendo le bottigliette e mi posiziono al centro della sedia. Le gambe ad angolo retto. Non mi abbandonate la colonna, ma dovete estenderla. Ci siamo bracci in fuori? Insieme vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Forza. 2, 3 piccoli molleggi. Via. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 1. Giù. 3, 2, 8 molleggini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 3, 2, 1. Stop. Portiamo adesso le bottigliette e poi viate sopra le ginocchia. Movimento lento, braccio sinistro. Insieme a me, due tempi salgo, due tempi scendo. Due tempi salgo, due tempi scendo. Due tempi salgo, due tempi scendo. Proviamo a farlo veloce adesso? A tempo, vai. 8, giù, 7, giù, 6. Occhio che ripartiamo subito col braccio destro, col movimento lento. Occhio al ritmo. Ultimi due. Pronti col destro? Si va. Salgo. Scendo. Salgo. Non scordate dell'allinamento della colonna. Salgo. Scendo. Vai. Salgo. Movimento singolo. Si va. 8. Forza. Ultimi 4. Ultimi 3. Ultimi 2. L'ultimo. Bene. Recupero qualche secondo. Portiamo adesso le braccia flesse. Bottiglietta a livello delle spalle. Aglio via. Il movimento è questo. Spingo e scendo. Fra 4. 3. 2. Si va. Spingo. 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 Fra 4. La spinta in fuori. Laterale. Ultimi 2. L'ultimo. Vado in fuori. Via. Fuori. 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 Fra 4. Una spinta in alto e una spinta in fuori. Ultimi 2. L'ultimo. Bene. In alto. Su. In fuori. In alto. In fuori. In alto. In fuori. Vai. In alto. In fuori. E recupero. Recuperiamo. Avete percepito il muscolo della spalla? Dopo un po' sguente. Ci siamo? Bene. Bicipiti. Anche se il carico è leggero. Pronti? Via. Fletto. Distengo. Il gomito è fermo. Vai. 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 Tre piccoli mondeggi. 3. 2. 1. Giù. 3. 2. 1. Giù. 3. 2. 1. Giù. 3. 2. E 1. Stop. Bene. Abbiamo finito questo mini circuito. Non mi voglio spingere oltre. Rilassiamo un pochettino la colonna. Mi appoggio con le mani qui sopra le ginocchia. Io le aggancio le ginocchia. Andiamo a prendere aria. Inspiro e stendiamo la colonna guardando il soffitto. E fuori aria arrotondo dolcemente la colonna. Ancora su. Prendo aria. Inspiro e stendo. Fuori aria arrotondo. Ancora. Inspiro e stendo. Fuori aria arrotondo. Ancora un movimento. Inspiro e stendo. E giù. Fuori aria arrotondo. Ritorniamo adesso nel centro. Riportiamo le gambe. Larghezza spalle. Con il braccio sinistro mi aggancio la sedia. Con il braccio destro, cresco verso l'alto. Andiamo dolcemente a flettere verso sinistra. E ritorniamo nel centro. Ancora. Fletto verso sinistra. Ritorno nel centro. Ne facciamo ancora una fletto. E andiamo a scambiare le braccia. Sollevo il braccio sinistro. E vado a flettere giù verso destra. E ritorno nel centro. Ancora giù verso destra. E ritorno nel centro. Ne facciamo ancora uno. Destra. E ritorno nel centro. Di nuovo le mani in appoggio qui sopra le ginocchia. Guardate che faccio. Io arrotondo la schiena. Infilo. Per poi estendere la schiena per risalire. Immaginate una sorta di serpente. Che si arrotonda. Per poi estendersi. Ancora due movimenti. Arrotondo ed estendo. Ne faccio ancora uno. Arrotondo ed estendo. Ultime due posizioni di stretching. Spostiamo il sedere in pizzo rispetto alla sedia. Allunghiamo la gamba sinistra. La punta è a martello. Il busto deve rimanere esteso. La mano destra si appoggia sopra la coscia. Io vado a portare teso il busto in avanti. Fino a sentire tensione lungo tutta la coscia sinistra. Se portate bene il piede a martello. Lo sentite anche al polpaccio. Però non dovete avere la schiena rotonda. La schiena deve essere dritta. E risalgo. Andiamo adesso ad invertire le nostre gambe. Mi appoggio con la mano sinistra sulla coscia. Andiamo ad inclinare il busto teso. Fino a percepire tensione dietro le cosce. Bene. Spingiamo bene con le gambe per sollevarci dalla sedia. Ci mettiamo adesso di lato. Io mi metto di fianco così mi riuscite a vedere meglio. Quindi vado a prendere la coscia e andiamo a fare stretching. Non mi portate il ginocchio in fuori. Ginocchio vicino all'altro ginocchio. Dovete portare in dentro il pancino. Ombelico dentro. In modo che percepite bene l'azione di stretching sulla coscia. Bene. Mi giro di 180 gradi. E andiamo sull'altra coscia. Con l'altra mano vi appoggiate la sedia. Tenere. E stop. Gambe divaricate. Due belle spironi. Prendo aria. Rilassiamo le braccia. Ancora via. Su. Prendo aria. E rilasso le braccia. Ragazzi grazie. Spero che il mini circuito vi sia piaciuto. E ne prepareremo uno per la prossima settimana. Ne possiamo fare in una settimana. E potete farlo fare anche ai vostri genitori. Va bene. Dopo lo proporrò anche ai vostri insegnanti. Benissimo. Grazie mille. Un bacione a tutti. Ciao. Ciao.